Ciao, in questa lezione vedremo come utilizzare il sensore di distanza per far rilevare al nostro robot la presenza di oggetti. Resta fino alla fine che ti mostrerò un semplice programma che permetterà al tuo robot di esplorare stanze, case, classi, scuole intere. Cominciamo! Il professor Mattoncini! Nella scorsa lezione abbiamo parlato del sensore di distanza, adesso vedremo come aggiungerlo al nostro robot, che è di nuovo la base motrice Spike Prime, di cui trovate le istruzioni sull'app stessa oppure sul sito Lego Education. Puoi montare il sensore come vuoi sul tuo robot, ti faccio vedere come l'ho fatto io. Finora il nostro robottino è andato in giro alla cieca, ma se i robot industriali o le macchine a guida autonoma andassero in giro senza sensori per vedere cosa c'è intorno a loro sarebbero guai seri. Ecco il problema, io voglio che il robot parta, vada dritto e quando vede un ostacolo inchiodi. Ora, io non ti mostro semplicemente come si fa, perché non ti voglio dare un pesce oggi, io voglio insegnarti a pescare. Prima di metterci a programmare, e questo vale per chi comincia adesso e anche per gli esperti, è importante prima stendere un piano d'azione, un copione scritto in linguaggio naturale, per fare chiarezza e capire quali sono i passaggi in cui va diviso il nostro problema per essere risolto senza preoccuparci ancora dell'implementazione, cioè della stesura del codice specifico. Questo ci permette di concentrarsi sulla soluzione del problema e non sui dettagli tecnici dell'implementazione, cioè della scrittura della sintassi del codice. Questa descrizione in linguaggio naturale di cosa vogliamo che il nostro programma faccia si chiama pseudocodice, cioè somiglia a un codice, è pseudo, ma non lo è proprio. Questo per l'appunto serve a fare chiarezza nella nostra mente, senza preoccuparci dei dettagli dell'implementazione, che è un passaggio successivo, quasi automatico. Non solo, una volta descritto questo algoritmo, voi potete passarlo a un esperto programmatore in un altro linguaggio e la traduzione potrà essere fatta in un linguaggio qualunque. In Scratch, come facciamo noi, in Python, se siete un pochino più esperti, o in cc++ se utilizzate la piattaforma Arduino, JavaScript... Quindi, cosa vogliamo fare? Bene, scomponiamo il problema in pezzetti, divide e ti impera, dividi e conquista. Parti a dritto, lo sappiamo già fare. Aspetta di vedere un ostacolo. Ecco qui, mi servirà un blocco nuovo che non abbiamo ancora visto. Ma ora non ci interessa, ci interessa solo il piano. Linguaggio naturale, ti ricordi? L'implementazione la vedremo dopo. E poi, fermati di colpo. Ora abbiamo il copione, traduciamolo. Scegliamo nuovo progetto, blocchi parole, crea. Adesso, come al solito, impostiamo i motori di movimento su C più D. Impostiamo la velocità di movimento sul 50% e adesso veniamo alla traduzione del nostro pseudocodice. Possiamo far partire il robot in avanti o all'indietro senza stabilire per quanto tempo, quante rotazioni o quanta distanza, utilizzando il blocco avvia movimento. Le opzioni sono avanti e indietro. A noi interessa che il robot vada avanti. Adesso dobbiamo, secondo passaggio del nostro pseudocodice, aspettare che il robot veda un ostacolo. Tutte le volte che dobbiamo aspettare o ripetere qualcosa è una questione di controllo del flusso del programma. Quindi andiamo nella tavolozza di controllo e scegliamo il blocco Attendi fino a quando. Questo blocco, vedete, non ha un input, cioè un ingresso con bordi rotondi, ma ha un ingresso con bordi a punta. Questo significa che il valore che dobbiamo specificare qua non è un valore numerico o testuale, ma è un valore logico, ovvero vero o falso. Perciò dobbiamo trovare un blocco che si incastri qui, che abbia questa forma con gli estremi a punta. Siccome dobbiamo aspettare di vedere un ostacolo andremo nella tavolozza sensori e troveremo il blocco relativo al sensore di distanza con gli estremi a punta. Notate che c'è un altro blocco che restituisce la distanza in percentuale, centimetri o pollici, ma ha gli estremi rotondi perché restituisce un numero e non si può incastrare, quindi non è quello che ci serve adesso. Quello che ci serve è questo blocco qua. Con gli estremi a punta che restituisce vero se la distanza misurata dal sensore collegato sulla porta F è minore di, per il nostro caso, 10 centimetri. Se lo trascino vedete che si incastra perfettamente. Bene, il secondo passaggio dello pseudocodice lo abbiamo implementato, cioè tradotto in Scratch 3. Adesso dobbiamo arrestare il movimento del robot, quindi dovrò di nuovo spostarmi sulla tavolozza Movimento e qui troverò il blocco Arresta Movimento. Ecco fatto. Adesso proviamolo. Molto bene. E ora, come promesso, realizziamo il programma per il nostro robot esploratore. Nota bene, non esiste una sola soluzione e non è detto che la soluzione che ti mostrerò io sia la migliore. Se ne potrebbero inventare un milione, anzi, ognuno di voi probabilmente sorverebbe una soluzione leggermente diversa. E questo è il bello. Cominciamo un nuovo progetto. Blocchi parole. Crea. Come al solito, impostiamo i motori di movimento su C e D. Impostiamo la velocità di movimento sul 50% e adesso esploriamo la stanza. Per fare questo, l'idea è che il robot vada dritto finché non vede un ostacolo. Quando vede un ostacolo, invece di fermarsi e basta, potrebbe andare indietro un po' sterzando e queste operazioni andranno ripetute all'infinito. Facciamolo un passaggio alla volta. Come prima, avviamo il movimento, poi andiamo nella scheda controllo, scegliamo il blocco attendi fino a quando e nella scheda sensori prenderemo il blocco che restituisce vero quando la distanza misurata dal sensore collegato sulla porta F è minore di 10 cm. Adesso torniamo nella scheda movimento e invece di usare come prima il blocco arresta movimento utilizzeremo il blocco muovi che abbiamo utilizzato in una scorsa lezione per spostarci a destra tenendo una ruota ferma ma non in avanti, indietro, quindi con un numero sotto zero, un numero negativo. Proviamo con meno una rotazione, quindi il robot si sposterà curvando all'indietro. Ora voglio che questa sequenza di blocchi venga ripetuta all'infinito perché il robot possa esplorare all'infinito. Quindi torno di nuovo nella tavolozza di controllo e prenderò il mio ciclo per sempre. Lo collego, trascino i blocchi al suo interno e adesso possiamo provare il nostro robot esploratore. Wow! Addirittura è tutta la porta. Come se la caverà col gatto che non lo vede pensare che i primi robot aspirapolvere non posso dire la marca perché non mi pagano per farlo funzionavano proprio così. Ci sono anche molti articoli tecnici nella letteratura di robotica che descrivono quale sia l'algoritmo migliore per far rimbalzare i robot di angoli diversi per coprire tutta l'area di una stanza nel minor tempo possibile. Bene, se questa lezione ti è stata utile clicchetta il tasto mi piace anche con una certa convinzione perché YouTube se ne accorge e non perderti la prossima lezione in cui vedremo come funziona un altro sensore il mio preferito che è il sensore di colore. Resta giovane gioca a modino Ciao!